Sinistro stradale dalle tragiche conseguenze ieri pomeriggio sull'A1 nei pressi di Somaia tra Lodi e Piacenza. Lo schianto è avvenuto in direzione nord alle 13.37 e ha coinvolto un mezzo pesante. A perdere la vita Giuseppe Grillo, autotrasportatore licatese di 42 anni, che alla guida del suo tir procedeva in direzione di Milano, quando ha perso il controllo del proprio mezzo, impattando da prima contro il guardrail e successivamente ha travolto un cantiere in corso. Rapido l'intervento dei vigili del fuoco della compagnia di Piacenza, che dopo un lungo lavoro hanno estratto l'uomo dalle lamiere. Per Grillo, però, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni da parte della polizia stradale, sarebbe stato un malore a tradire l'autotrasportatore licatese. Dopo l'incidente, pesanti le ripercussioni sul traffico, alle 15 di ieri pomeriggio, il sito di Autostrade per l'Italia segnalava code di 6 km nel tratto interessato dall'incidente mortale. La notizia si è rapidamente sparsa anche a Licata ed è stata accolta con stupore da quanti conoscevano Giuseppe Grillo, coniugato con figli, e dalla famiglia dell'uomo, straziata da un dolore per una perdita improvvisa e inaspettata.